Benvenute nel nostro canale. Oggi vi portiamo le anticipazioni di Endless Love, il serale di sabato 8 e le lunghe puntate di domenica 9 giugno. Emir scopre che Tufan è suo fratello. Zainep ed Emir si ritrovano a letto insieme, mentre si scopre tutta la verità sulla morte di Linda. E, come se non bastasse, assisteremo a due richieste di divorzio, e Ozan verrà arrestato. Restate con noi fino alla fine per scoprire cosa succederà e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella per non perdere nessuna anticipazione e lasciate un like se amate Endless Love. Cominciamo. Emir è solo nella sua stanza quando riceve un messaggio da Zainep che gli chiede se sta meglio. Lui non risponde, ma riflette su come la sorella di Kemal sia sempre leale nei suoi confronti. Poco dopo, entra nella stanza di Ozan dove lui e Zainep stanno guardando un film e mangiando popcorn. Notano che Emir è ubriaco, ma Zainep manda Ozan a prendere altri popcorn, permettendo così ad Emir di avvicinarsi a lei. Tuttavia, Zainep lo respinge. Quando Ozan ritorna con i popcorn, Emir decide di andare a dormire. Asu è con suo zio, che teme di aver fatto troppe pressioni su Kemal. Lei lo rassicura dicendo che l'amore di Kemal per Nihan è una cosa del passato e lascia intendere di avere un'idea per avvicinarlo a sé. A chi la mette in guardia dall'agire per rabbia o impulsività, ma Asu lo rassicura che andrà tutto bene. Nello stesso momento, Nihan consegna a Kemal una bustina contenente dei capelli di Emir. In questa scena viene rivelato quale fosse il favore che Kemal le chiese qualche giorno prima, procurargli i capelli di Emir per sottoporli a un test del DNA. Il giorno successivo, Kemal si presenta all'appuntamento che Nihan aveva organizzato con Zair, mettendo in discussione la sua decisione di condurre le indagini da sola. Nihan sostiene che è stato lui a dire che l'indagine non avrebbe potuto procedere se avessero continuato insieme, ma ora Kemal le chiede di non agire da sola e di aspettarlo. Le promette che risolveranno il caso del fratello di Emir e del figlio di Narsen e poi proseguiranno insieme le ricerche. Tuttavia, Nihan non sembra essere molto convinta a ritardare le indagini. Successivamente, Onder torna a casa solo per annunciare la sua decisione di chiedere il divorzio a Vildan. Vildan fa un'altra delle sue scenate, convinta che lui voglia tornare da sua sorella, ma Onder risponde che Leila non gli ha dato alcuna speranza. Informa Vildan che gli è bastato un solo giorno senza di lei per capire che è pronto per il divorzio e l'avverte che riceverà la lettera del suo avvocato. Più tardi, Kemal è a pranzo con Tufan e non gli nasconde i suoi sospetti, convinto che Tufan sia il ricattatore che minaccia Emir e anche il suo fratello segreto. Tufan nega ogni accusa e, infastidito, si alza per andarsene, ma Kemal lo provoca facendogli notare che non ha mangiato né bevuto e non è carino nei suoi confronti. Tufan allora lo sfida bevendo un sorso d'acqua e se ne va. Kemal non aspettava altro, prende il bicchiere da cui Tufan ha bevuto, lo mette in una bustina di plastica per sottoporlo a un test del DNA da confrontare con i capelli di Emir Kotswoglu. Nel frattempo, Emir irrompe insieme ai suoi uomini a casa dell'ex medico legale, ma scopre che l'uomo è assente da giorni. Allora controllano i suoi documenti e trovano un foglio in cui appare il nome di Tufan e di Galip come suo tutore. Contemporaneamente, Tufan avverte qualcuno che a quest'ora Emir avrà già trovato quel documento. Infatti, giorni prima lui stesso era entrato in casa del medico legale e aveva inserito quel foglio tra i documenti. Emir, vittima della trappola di Tufan, chiama suo padre e gli chiede se ha fatto sparire il medico legale. Poi gli dice di aspettarlo a casa. Assu, desiderosa di conquistare Kemal, chiede aiuto a Zeynep, che comprende la sua situazione essendo innamorata di Emir, che però non la ricambia. Si incontrano in un locale e Assu le spiega che Nihan è l'unico ostacolo al loro amore o alla vendetta nel caso di Zeynep. Suggerisce un piano per mostrare a Emir le continue frequentazioni di sua moglie con Kemal. Zeynep deve diventare una spia per il Kozjolu, informandolo su ogni incontro tra Nihan e Kemal, dimostrando così la sua lealtà. Avverte Zeynep che dovrà conquistare la fiducia di Emir, altrimenti non la prenderà mai in considerazione. Zeynep accetta e ha già in mente cosa fare. Emir arriva a casa di suo padre e mostra il foglio che ha trovato, accusandolo di avergli nascosto che Tufan è suo fratello. Galip risponde che ci deve essere un errore, poiché Tufan è figlio di Narsen, l'ex domestica e amica di sua madre. Emir, però, non gli crede e se ne va furioso. Nihan, mentre si trova nella palestra di casa, riceve una busta da Efsane. All'interno trova una foto che rappresenta una chiave e sa esattamente dove trovarla. Si precipita nello studio dove infatti trova la chiave e chiama Kemal per informarlo. Kemal le consiglia di non fare nulla perché non conoscono le intenzioni di chi li sta aiutando. Nonostante il consiglio di Kemal, Nihan è convinta che la chiave sia collegata alla confessione di Taner e chiede a Kemal di vedersi immediatamente al ritrovo di Zeir. Emir, nel frattempo, è arrivato in ufficio e chiede alla segretaria di chiamare del personale sanitario e Tufan. Kemal, invece, è al centro analisi dove si sta svolgendo l'esame del DNA sulle tracce biologiche di Tufan e Emir. Nel suo ufficio, Emir è con Tufan che gli racconta dei suoi genitori morti e di non sapere neppure dove siano sepolti. Quando arriva il personale sanitario, Tufan si sottopone a un prelievo di sangue per le analisi in laboratorio che permetteranno a Emir di scoprire se Tufan è suo fratello. Nihan, Kemal e Zehir si ritrovano a discutere della chiave che Nihan ha trovato nel suo studio. Sanno che potrebbe esserci qualcuno che vuole aiutarli, ma non sanno se dietro potrebbe esserci una trappola. Nonostante l'incertezza, Kemal è determinato a scoprire l'origine della chiave e cosa potrebbe aprire. Le domestiche di casa Sezin mormorano sul fatto che Emir sembri assente e che non abbia chiesto di Nihan. Zainab, sentendole parlare, decide di andare subito da lui mentre Ozan la sta cercando. Seguendo il piano di Asu, Zainab entra nella stanza di Emir e lo trova immerso nei suoi pensieri. Gli si avvicina e lui le dice che ammira il suo coraggio. Poi si avvicinano ulteriormente e iniziano a baciarsi, finendo di nuovo a letto insieme. Kemal, intanto, è in una ferramenta e scopre che la chiave potrebbe appartenere a una delle cassette di deposito presso il terminal degli autobus. Nihan torna a casa e trova la porta della stanza di suo marito chiusa a chiave. Lei lo chiama e lui le chiede di andare via mentre Zainab nel letto di Emir si sente soddisfatta. Anche Ozan in cerca della moglie bussa alla porta di Emir che gli dice di averla vista in giardino. Zainab riesce a rivestirsi in fretta e uscire facendosi trovare in giardino da Ozan che la abbraccia esprimendo la sua preoccupazione per non averla trovata. Nihan intuisce qualcosa e lo fa capire a Zainab con uno sguardo. Poi osserva suo marito con disgusto mentre lui in accappatoio e con un bicchiere in mano si affaccia alla finestra della sua stanza. Poco dopo in camera da letto Ozan cerca di avvicinarsi a Zainab ma lei lo respinge con la scusa di voler fare una doccia. Entrata in bagno ripensa ai momenti con Emir e dice a se stessa che il suo obiettivo è sempre più vicino. Nel frattempo Nihan riceve un messaggio da Kemal e si incontrano al pozzo. Kemal è impaziente e le dice che non ce la fa più che l'unica cosa che lo tiene ancora in piedi è solo l'amore per lei ma teme che presto nemmeno questo basterà. Aggiunge che se il giorno dopo quella chiave aprirà la porta della verità nessuno potrà fermarlo e andrà dritto per la sua strada portando Emir nella sua stessa oscurità. Nihan è allarmata dalla durezza di Kemal ma lui le ricorda quanto l'ama e che se scoprirà la verità che li ha separati per così tanto tempo passerà sopra tutti sulla sua famiglia su Ozan e su Emir. Le chiede se lei è al suo fianco e Nihan risponde di sì. Durante la notte Tufan entra nel laboratorio di analisi e sostituisce la sua provetta di sangue con un'altra poi chiama il suo complice misterioso per informarlo che la missione è stata compiuta. Il mattino seguente Kemal riceve una chiamata dal laboratorio che lo informa che i test del DNA non corrispondono. Kemal capisce quindi che Tufan non ha mentito. Poco dopo Nihan esce di casa incrocia l'auto di Kemal e proseguono insieme verso il terminal degli autobus. In quello stesso momento Emir riceve una chiamata dal laboratorio di analisi che conferma l'alta corrispondenza tra i due campioni di sangue. Emir e Tufan sono fratelli. Kemal e Nihan raggiungono la cassetta di sicurezza e aprendola trovano una piccola scatola contenente una chiavetta USB. Nihan impaziente di scoprire la verità e riprendersi la sua vita insieme al suo amato estrae il computer dalla borsa. Kemal inserisce la chiavetta e guardano subito il video della notte dell'omicidio. Taner aveva ragione. Linda non è stata uccisa e l'omicidio era una farsa. La ragazza indossava un giubbotto antiproiettile e un sacchetto di sangue finto. Nihan torna a casa e attende Emir in camera sua con il computer aperto e il video pronto per essere avviato. Quando Emir arriva lei lascia che guardi il video poi gli dice che Ozan è innocente e che il loro matrimonio è finito. Emir attonito tenta di trattenerla dicendo che non può lasciarlo perché lei è colpevole quanto lui per aver coperto suo fratello per cinque anni sospettato di essere un assassino. Nihan insiste che il video dimostra l'inganno ma Emir afferma che non è una prova e che se si tratta di un inganno lui non c'entra perché nel video si vede chiaramente che è Karen a manipolare la situazione. Emir sostiene di aver protetto Ozan ma minaccia che se lei lo lascia e lo denuncia farà solo del male a suo fratello che andrebbe in prigione perché i video in suo possesso dimostrano che Ozan ha assassinato Linda da quella notte. Nihan stanca delle sue bugie lo sfida a dimostrarlo e se ne va decisa a lasciare la casa e tornare solo per prendere le sue cose. Emir la segue disperato minacciando di denunciare tutta la sua famiglia. Nihan lo sfida ulteriormente consigliandogli di prepararsi a fuggire all'estero. Kemal aspetta Nihan fuori dalla villa e insieme vanno via in macchina. Nihan racconta a Kemal di essere stata ricattata da Emir e Kemal deciso a proteggerla propone di andare dalla polizia per procedere con la denuncia per il ricatto e chiedere protezione per Nihan. Lei però vuole prima parlare con la sua famiglia. Emir in preda al panico telefona a suo padre per informarlo della fuga di Nihan spiegando che non può più trattenerla perché lei ha scoperto tutto e ha un video che dimostra l'innocenza di Ozan. Galip chiede se Ozan ha effettivamente ucciso Linda ed Emir conferma nonostante l'evidenza dimostri il contrario. Dice di essere stato incastrato dal suo ricattatore che ha costruito prove contro di lui. Galip ordina al figlio di non fare nulla e di aspettarlo ma Emir esce di casa e chiama la polizia da una cabina telefonica per denunciare l'omicidio di Linda da parte di Ozan. Nel frattempo Kemal e Nihan arrivano davanti alla stazione di polizia. Kemal spiega a Nihan che dovrà testimoniare sulle minacce ricevute da Emir rivelando che lei vuole il divorzio ma è stata ricattata. Le dice anche che è necessaria la confessione di Ozan. Tornando alla villa Vildan trova la polizia che interroga Efsane. Preoccupata scopre che gli agenti cercano Ozan. Immediatamente contatta Onder informandolo della situazione e chiedendogli di tornare. Ozan e Zainep arrivano in taxi e trovano la polizia a casa venuta per portare Ozan in questura come sospettato di omicidio. Ozan è spaventato e oppone resistenza ma la polizia lo convince a collaborare. Onder arriva proprio in quel momento e vede che la polizia sta portando via suo figlio. Ozan terrorizzato ha una crisi e viene trasportato in ospedale. Più tardi Nihan visita Ozan in ospedale e con calma gli dice che può finalmente affrontare la verità. Non ha commesso nessun omicidio e lei ne ha la prova quindi può stare tranquillo. Lui però è molto spaventato e rifiuta di testimoniare alla polizia. Kemal riceve una lettera dal ricattatore di Emir che gli dice di non voler essere trovato. Allora l'ingegnere interrompe le ricerche. Emir intanto ha fatto rapire Tufan sicuro che sia il suo fratello segreto e anche il ricattatore che lo sta incastrando. Infine Kemal vede il suo futuro con Nihan e dice ad Hakki di voler rinunciare alle sue azioni mentre Nihan annuncia alla sua famiglia di essere pronta a chiedere il divorzio. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie scrivete voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie